Pasta con asparagi e speck croccante, un piatto molto appetitoso che si prepara in pochissime mosse, pochi ingredienti ma di qualità, tra cui l'olio extravergine di oliva ribatti. Eliminiamo dall'asparagi la parte più dura e legnosa e poi li lessiamo in acqua e sale. Non appena cotti, li preleviamo e li facciamo intipidire. Tagliamo i gambi grossolanamente lasciando da parte le punte, non troppo corte, mi raccomando. Inseriamo i gambi all'interno di un bicchiere di un frullatore di immersione, aggiungiamo l'olio e frulliamo, fino ad ottenere una consistenza liscia e cremosa. A questo punto scaldiamo l'acqua per la pasta, mettiamo la pasta in cottura e nel frattempo scaldiamo in una padella un filo di olio ribatti, lo speck e gli asparagi. Facciamo soffriggere bene e poi aggiungiamo anche la crema precedentemente ottenuta. A questo punto amalgamiamo bene. E serviamo portando in tavola con un po' di olio e un pizzico di pepe.